Giovedì 3 luglio 2014 ci troviamo a Roma presso l'acquario romano dove quest'oggi ha avuto luogo un convegno dedicato alla sostenibilità in edilizia dall'edificio al quartiere. Il convegno è stato organizzato da Action Group Editore con l'ordine degli architetti della provincia di Roma e di Roma. Oggi sono intervenuti tantissimi progettisti e architetti proprio per ascoltare i numerosi interventi di esperti e di imprese che hanno presentato case history e nuovi prodotti. Vediamo. La nostra tecnologia consiste in un insieme di sistemi modulari che coniugano prestazione energetica a riqualificazione estetica. Il tema è molto contemporaneo, sostenibilità, contenimento energetico, green building. Il nostro sistema modulare si pone come un elemento distintivo in questo settore, in questo mondo. Il sistema roofing green consiste in un insieme di moduli assemblabili tra loro, infinitamente assemblabili, che coniugano prestazione energetica e riqualificazione estetica. Quindi una piastra modulare che può ricevere dei piedini alla base e quindi creare delle superfici di ventilazione di intercapedine d'aria e che coniugano finitura estetica. Non è la prima volta che lavoriamo con Action Group e quindi siamo ritornati con vero piacere a Roma dopo le esperienze positive di Torino e Milano, proprio perché abbiamo visto un interesse e anche una ricaduta chiaramente molto evidente dal punto di vista commerciale. Quindi con grande piacere siamo tornati qui a Roma.